La Guardia di Finanza, interventi contro la pesca illegale lungo le coste marsalesi. I militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Mazzara del Vallo, nell'ambito delle attività ispettive svolte sul litorale, hanno sottoposto a controllo varie imbarcazioni da pesca, identificando 30 soggetti e contestando violazioni attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro, la normativa sanitaria e quella sulla filiera etica. Le fiamme gialle hanno individuato anche diversi pescatori di frodo intendi nell'illecita cattura dei ricci di mare, di novellame di sarde e di oloturie, tutte specie sottoposte a specifici vincoli ai fini della loro tutela e del ripopolamento, elevando sanzioni per oltre 10.000 euro. I militari hanno sequestrato oltre un quintale di pesce di vario tipo catturato illegalmente, che grazie alla verifica sanitaria eseguita dal medico veterinario della competente ASP, è stato dichiarato commestibile ed è stato devoluto in beneficenza a enti carietatevoli del territorio mazzarese. Bimbo in goia pila a bottone, estratta in sala operatoria, la dottoressa Di Stefano rischio danni e attenzione ai giochi. Sono piccole, rotonde e piatte e sempre più diffuse. Le pillole a bottone a litio, molto utilizzate nei giocattoli e in altri oggetti comuni in ambiente domestico, rappresentano un pericolo proprio per i più piccoli che potrebbero ingerirle. È proprio un caso del genere, è stato gestito e risolto dal pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera per l'emergenza Gagnizzaro di Catania, dove nei giorni scorsi si è presentato un bambino di 6 anni proveniente da Gela, con un corpo estraneo nello stomaco. Aveva avuto per le mani una batteria e l'aveva messa in bocca ingoiandola. La famiglia, dopo una prima valutazione al pronto soccorso della propria città, è stata indirizzata all'ospedale Gagnizzaro di Catania. Eseguita la radiografia dell'addome, che ha messo in evidenza la presenza e la localizzazione del corpo estraneo, il bambino è stato condotto in sala operatoria dove gli endoscopisti, con l'assistenza degli anestesisti, hanno potuto estrarre in sicurezza il piccolo oggetto, prima che esso potesse causare conseguenze più importanti. Dopo una notte in osservazione, tornato in piena salute, il bimbo ha fatto rientro a casa che hanno i genitori. Nasce Insieme 21, un progetto che offre servizi, attività e inserimento lavorativo per le persone con sindrome di Down. Autonomia abitativa, laboratorio sulla sessualità, corso base di karate, laboratorio di psigomaticità, inserimento lavorativo. Queste sono solo alcune delle attività che le associazioni catanesi che si occupano di persone con sindrome di Down o mettono a disposizione dei loro iscritti. È da oggi il servizio totale del progetto Insieme 21, che è stato presentato ieri pomeriggio a Catania dagli ideatori di questa iniziativa, il genetista Sebastiano Bianca di Bigenetica, in collaborazione con Roberta Mirone, logopedista e coordinatrice del centro Epsilon, Aida Fazio, presidente di associazione italiana persone Down, Stefania Massimino, presidente associazione famiglie e persone Down, Anna Papale, presidente di futuro 21 e Anna Maria Eppolito, vicepresidente di vita 21. Il principio è quello di iniziare un percorso comune che consenta a ogni associazione di poter fruire dei servizi delle altre, ma c'è anche l'obiettivo e la precisa volontà di offrire questi servizi anche a chi è rimasto fuori dalle associazioni, per scelta o per difficoltà. Per questo è stata creata e presentata oggi la carta dei servizi Insieme 21, che comprende le singole specialità di ogni associazione. Le attività sono aperte alle persone con sindrome di Down, dalla nascita all'età adulta, anche dopo il percorso scolastico che segna un confine invalicabile per i genitori che si trovano senza un punto di riferimento né una possibilità di socialità per i propri figli, mentre combattono con pensieri e responsabilità. Aiutare i figli a farsi una vista, a tranquillizzare se stesse sul futuro che i figli avranno dopo di noi. Ciminiere di Catania, premiati vincitori del 55esimo campionato nazionale scacchistico a squadre, fase regionale. Evento sportivo che si è tenuto alle Ciminiere con il patrocino di comune della città metropolitana di Catania. Gli assessori comunali Andrea Guzzardi, Viviana Lombardo e Giuseppe Marletta hanno espresso il sostegno alla Federazione Scacchistica Italiana, impegnata da Anna a diffondere nelle scuole lo sport della mente, in ottemporanza alla direttiva europea che inserisce il gioco degli scacchi nelle attività curriculari, individuandone le finalità educative, capacità di calcolo e di concentrazione, rispetto delle regole e dell'avversario. Attitudine alla disciplina e autocontrollo, sviluppo dell'intuito e della memoria. Al Chase Stadium di Ford Lauderdale l'Italia affronta il Venezuela per la prima delle due amichevoli negli Stati Uniti, 19 anni dopo l'ultima volta in terra statunitense e prima assoluta contro la Vinotinto. Spalletti sceglie la difesa a tre, ma la partenza è tutta in salita per gli azzurri che al secondo minuto complice un errore in uscita commettono fallo da rigore con Buongiorno. Dal dischetto però è Super Donna Rumma che si esalta su Rondon, sulla ribattuta Savarino spara alto, pericolo scampato per l'Italia, protagonista il capitano degli azzurri. Reazione Italia al minuto numero 14, Bonaventura larga per Chiesa, classico movimento a rientrare destro a giro, palla che esce non lontano dalla porta difesa da Romo. Le squadre si affrontano a viso aperto, ma Cis scappa sulla sinistra e crossa al centro per Rondon che in spaccata mette paura agli azzurri, palla fuori alla sinistra di Donna Rumma. Al quarantesimo gli azzurri sbloccano il match, errore in uscita del Venezuela, intercetta Locatelli assiste di Cambiaso per Reteghi che si gira e di destro infila Romo. Terzo gol per l'attaccante che torna ad esultare dopo le reti contro Inghilterra e Malta, Italia avanti. La gioia però dura poco, tre minuti più tardi la pressione dei sudamericani induce Bonaventura all'errore, appoggio per Macis che a porta vuota in diagonale deposita in rete, uno a uno. È tutto da rifare per i ragazzi di Spalletti. Nella ripresa dentro Barella fuori Bonaventura, al minuto numero 63 ancora un intervento di Donna Rumma salva l'Italia. Cadiz scappa via Bongiorno e Scalvini e calciabotta sicura, grande risposta del numero uno azzurro che poi con l'aiuto della difesa evita guai sul secondo tentativo dell'attaccante sudamericano. Ad un quarto d'ora dal termine ci prova l'Italia, Zaniolo recupera palla, si accentra e calcia, Romo devi in angolo. All'ottantesimo gli azzurri tornano in vantaggio, la respinta su cross di Zaccagni finisce sui piedi di Giorginio che con una finta entra in aria e serve Reteghi che si gira in un lampo e di prima intenzione supera Romo per la seconda volta. Quarto gol in cinque partite, prima doppietta per l'attaccante, grande protagonista della sfida. Nel recupero c'è tempo per una chance con Raspadori imbeccato da Barella, il tiro finisce alto. Inizia con una vittoria la trasferta interamericana, 2 a 1 il risultato finale contro il Venezuela per gli azzurri che saranno di scena domenica a Harrison per il secondo match contro l'Equador. I funzionari di 36 paesi, le agenzie delle Nazioni Unite e altre entità sono riunite a Cipro per coordinare l'operatività del corridoio marittimo-umanitario che collega l'isola alla striscia di Gaza, inaugurato la scorsa settimana con l'arrivo sulle coste dell'enclave palestinese di 200 tonnellate di prodotti alimentari. La priorità è consolidare la missione e aumentarne la capacità operativa. How many boats, how many vessels? The answer is as many as possible, provided that this is what the system, the plan can manage in terms of operational capacity. We have to remember that there are limitations in terms of the reception and the distribution and the whole point is not just to stockpile it here and waiting for it to go to Gaza, it's about a quick turnaround so that we are as efficient as possible. Nei prossimi giorni dovrebbero partire altre due imbarcazioni, condizioni meteorologiche permettendo. Sulla striscia di Gaza continuano a essere paracadutati gli aiuti umanitari, ma il carico di rifornimenti non è nemmeno lontanamente sufficiente a fronteggiare la sempre più grave crisi alimentare che sta colpendo la popolazione di Gaza. Intanto il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken è arrivato al Cairo, in Egitto, nel tentativo di aumentare le consegne di aiuti umanitari, negoziare un cessato il fuoco e un accordo sugli ostadi. 100 morti nelle ultime 24 ore e 100 operatori sanitari uccisi in una settimana. È il bilancio dato dalle autorità sanitarie di Gaza con i bombardamenti israeliani che hanno colpito in particolare a Deir al-Bala. Israele prosegue anche le operazioni all'ospedale Al-Shifa dove giovedì ha fatto implodere un edificio. Mercoledì il premier israeliano Netanyahu ha confermato che la guerra continuerà, dunque anche l'avanzata surrafa che verrà discussa la settimana prossima con gli Stati Uniti. Proprio a un gruppo di senatori USA, Netanyahu ha detto che i morti a Gaza finora sono 28.000, una stima molto vicina ai quasi 32.000 contatti dal Ministero della Salute palestinese. Si attende l'esito dei colloqui in corso tra Israele, Hamas e i mediatori per un cessato il fuoco. Ci sono delle possibilità, ha detto dall'Arabia Saudita il segretario di Stato americano Blinken, in visita nella regione per la sesta volta dall'inizio della guerra. Antonio Gutierrez è stato ricevuto a Bruxelles mercoledì dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nel punto stampa che ha preceduto l'incontro, il segretario generale delle Nazioni Unite ha fatto un appello per una pace giusta che rispetti la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Grazie a tutti i due anni fa, la invasione di full-scale in Russia ha causato, e questo ha causato, in un momento in cui affrontiamo diverse crisi che si tratti dell'Ucraina o di Gaza, del Sudano di Haiti, anche la cooperazione tra Unione Europea e ONU è più importante che mai, ha dichiarato von der Leyen in un comune... Si sono incontrati a Praga, giovedì 21 marzo, i ministri degli esteri dei paesi del gruppo Visegrad, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Tra i temi trattati, la guerra in Ucraina e il sostegno militare a Kiev. Discusso un piano per l'acquisto di munizioni da paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea, su cui Repubblica Ceca e Polonia si trovano d'accordo. Contraria alla fornitura di armi all'Ucraina, sia l'Ungheria che la Slovacchia. Finora sono stati consegnati solo 330.000 proiettili provenienti principalmente dalle scorte esistenti degli Stati europei, su un milione di proiettili da 150 mm promessi in un anno. Le forze di Mosca hanno lanciato nuovi attacchi missilistici e con droni sulle due città più grandi dell'Ucraina. Nella notte tra mercoledì e giovedì, frammenti dei missili intercettati dal sistema antiaereo hanno ferito almeno 8 persone a Kiev. Poche ore prime, un attacco contro un edificio industriale a Kharkiv ha provocato la morte di almeno 5 persone, mentre altre 5 risultano ancora disperse. Durante il suo intervento al Bundestag, in vista del vertice di Bruxelles, il cancelliere Olaf Scholz si è detto favorevole all'uso di fondi europei per l'acquisto di armi extraeuropee per l'Ucraina. Scholz ha appoggiato anche l'uso di beni russi congelati per aiutare Kiev. Le autorità locali stanno evacuando i residenti di Velikavsarvika, sottoposto a frequenti bombardamenti da parte delle truppe russe. Sebbene un gran numero di residenti abbia già lasciato l'insediamento, alcuni si rifiutano di evacuare. Il presidente portoghese Marcello Rebello de Sousa ha chiesto a Luis Montenegro, che guida la coalizione di centrodestra Alleanza Democratica, uscita vincitrice dalle elezioni legislative, di formare un governo. Montenegro, leader del Partito Socialdemocratico, ha annunciato di aver concordato con il presidente di tornare al Palazzo il 28 marzo per presentare la squadra dell'esecutivo. La cerimonia di giuramento si terrà il 2 aprile. Alleanza Democratica ha ottenuto la maggioranza relativa con il 28,8% dei voti e 80 seggi su 230, contro il 28% e i 78 seggi del Partito Socialista. La grande sorpresa di questa elezione è stata l'ascesa dell'estrema destra in Portogallo, che ha più che raddoppiato i consensi, ottenendo il 18,1% dei voti. La formazione antisistema, fondata nel 2019, ha quadruplicato i seggi, passando da 12 a 50. L'ultima opera realizzata da Bansky a Londra è stata vandalizzata a soli tre giorni dalla sua comparsa. Due strisce di vernice bianca paiono ora sul murales che occupa un muro antistante un albero a Finsbury Park, che è stato potato con una tecnica nota come capitozzatura. L'immagine aggiunge una chioma all'albero. Bansky, la cui identità non è mai stata rivelata, ha realizzato i suoi primi lavori a Bristol in Inghilterra. Le sue opere di satira politica e ormai di altissimo valore sono state spesso vandalizzate o addirittura rubate.